Qual è stato il punteggio della finale Euro 2012? 3 a 0, 4 a 0. Quale calciatore detiene il record per il maggior numero di assist in Premier League? Giggs o Lampard? Di che colore è la terza maglia del Genoa? Blu o oro? Bravo! Di che squadra è Presidente Beckham? Los Angeles Galaxy o Inter Miami? Questo è facile, troppo facile! Asperta! Inter Miami!